Salve a tutti, bentornati nel canale, io sono Frank Hortzman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi andiamo a fare finalmente, e dico finalmente, la classifica dei migliori album black metal del 2022. Questo era un video che doveva uscire come secondo, il secondo video dell'anno, poi purtroppo sono successe cose, tra cui ho avuto l'influenza, mi porto ancora alcuni strasci che ha presso. E quindi niente, ho dovuto far uscire il vlog, tanto doveva uscire prima o poi il vlog, e quindi niente, bando alle ciance. Allora, prima di iniziare, vi farò trovare qui in descrizione una playlist, playlistona, la playlistona con racchiuso tutto l'essenziale del 2022 riguardante black metal. Quindi facciamo un riassunto di tutto quello che c'è qui in questo video, vi faccio una bella playlistona così vi andrò a sentire qualcosa. La farò anche per quanto riguarda il video che ho fatto sul melodic e power metal, una playlist anche per il meglio del melodic e del power metal. Detto questo, partiamo subito che ho preso in considerazione una quarantina di gruppi e fidatevi che c'è un lavoro immenso, enorme dietro. Quindi, niente, andiamo subito, partiamo subito insomma. Special Mention Alcuni sono Special Mention, alcuni no, vabbè. Partiamo subito con i Behemoth, con Opus Contra Naturam. Sarà pure un album della Madonna, ma io comincerò a prendere in considerazione solamente quando Nergal finirà di sparare cazzate. Poi sinceramente parliamoci, parliamoci chiaro. Nel 2023 serve ancora parlare di satanismo per fare black metal. Tu via signori, dai. Vabbè, comunque, a parte scherzi, fatemi sapere nei commenti se questo album merita oppure no, perché io continuerò a boicottarli perché sinceramente mi stanno sulle palle Nergal. E poi vi voglio dire la verità, non serve che ve li sponsorizzi io per farveli conoscere. Tutto qui. Satiricon con Satiricon e Munch. Ottimo album Dark Ambient, non è black metal, entra qui in classifica solamente perché è stato fatto da Satiricon. Comunque non è di facile ascolto. Se vi aspettavate un album black metal, di certo non sarà facile il primo ascolto, l'ascolto comunque sia. Il primo ascolto, almeno il mio primo ascolto, è andato male. Poi però mi ci sono impuntato e ho detto no, io questo lo voglio ascoltare. Mi ci sono messo con calma, con il mood giusto e dovevo cercare di capire che cosa volevano dirci, insomma, i Satiricon. Fatemi sapere comunque sia se volete una guida all'ascolto dettagliata per questo album perché vorrei farci sopra un video. Sarei lieto di farvela e già ho in mente chi chiamare per parlare di questo video. Woods of Desolation con The Falling Tide. Qui sinceramente ho dedicato pochi ascolti e forse non mi ha colpito più di tanto. È un lavoro fatto bene, un post black metal malinconico, molto deprimente. La voce sin da subito trasmette angoscia e ansia. Probabilmente proporrei questo album a chi piace comunque sia il sound degli Arakiri for the sky. Anche se il sound non è proprio quello, è un po' più raw, sia con la voce sia con il resto degli strumenti. Però la composizione ricorda un pochettino loro. Quindi andate ad ascoltare. Abbiamo Vemens con Ordalì. Io questo l'ho visto entrare in classifica, dei migliori album metal di quest'anno. Io sinceramente anche qui pochi ascolti non so come abbiano fatto a farlo entrare in classifica, nonostante io abbia dedicato pochi ascolti a questo album. So per certo che almeno la parte mia non è da top 10, nonostante ecco l'abbia ascoltato pochissimo. È un ottimo album epic melodic black, se proprio vogliamo fare i sboroni medieval black metal. È un album che riesce a prenderti ma bisogna ascoltarlo tante volte, cosa che io non ho fatto purtroppo. Mi piace parecchio la voce di Evermore, come cavolo si chiama. Molto aggressiva comunque sia da parte sua la voce e i riff melodici di chitarra in tremolo perfetti. Ne vale la pena? Sì, però c'è da investire parecchio tempo sopra. Quindi, insomma, vedete un po' voi. Ultar at the gates of dusk, purtroppo non l'ho ascoltato moltissimo, sono sicuro che se lo avessi approfondito questo è uno dei lavori che sarebbe probabilmente entrato in top 10 a mani basse. Poi, raga, parliamoci chiaro, gleba la voce, è una certezza, poi vi ricordo che è anche il cantante degrima, quindi voglio dire, abbiamo la certezza sua, insomma. Vi dico che è aggressivo come pochi, alle volte è melodico e le tematiche danno un boost veramente enorme. Spero di poterlo approfondire meglio in futuro, anche perché è un lavoro che sicuramente merita. Storm, Ruler, Sacred Rites and Black Magic. Qui parliamo di un melodic black metal con tematiche fantasy. Tra le altre cose, questo gruppo è sotto una palm record, così. Tanto per dirne una, eh. Ho scoperto questo gruppo troppo tardi, di base è già uscito tardi l'album, il 14 ottobre dell'anno passato. È un album che a primo ascolto non mi ha entusiasmato, però questo non vuol dire che non merita di essere approfondito. Lo consiglio a chi piace particolarmente Keys of Hortank e Moon Gates Guardian. San Male, spero che si chiama San Male o San Male, con l'album San Male. Se vi state chiedendo perché questo album è qui, in questo proprio, questo preciso punto, è perché purtroppo è uscito il 30 dicembre. È vero che siamo al 23 di gennaio, ho avuto modo per ascoltarlo, però un'uscita del genere o stupisce subito oppure rimane fuori proprio per questo motivo. Mi spiace perché comunque è un atmospheric black metal fatto bene e probabilmente anche meglio di altri album che sono usciti prima, però purtroppo non sono riuscito ad ascoltarlo come avrei voluto. Colgo comunque l'occasione per dire una cosa molto importante. Questo è proprio il motivo per cui le somme si tirano il primo di gennaio e non a metà dicembre. Perché se vi ricordate l'anno scorso il miglior album dell'anno l'ha vinto Aquilus, la cui uscita appunto era il 3 dicembre. Tornando a noi, questo è un album perfetto per gli ascoltatori accaniti come me appunto di Atmosferic Black. Piccolo appunto finale, la voce è molto simile a quella di Saur, di Andy. Pure Vrat, con Imn to the Wifeful Heart. Dire che Gianuario abbia fatto un lavoro sublime su questo album è voler minimizzare i signori. È un sound pulito, spettrale, ma riesce ad essere anche melodico con a volte accenni di tastiera perfetto. Di questo album io in realtà amo tantissimo i dettagli curati sia sulla musica che sull'artwork, che ha delle copertine veramente stupende. È un artista a parere mio completo e da scoprire. Con la sua musica riesce a portarci nella sua terra, raccontandoci proprio il suo passato. Si sente proprio l'attaccamento alla sua Indonesia. È un Atmosferic Black molto aggressivo, con chitarre che prevalgono, ma troviamo anche un piano molto curato. Spero di approfondirlo in futuro. Comunque questo artista lo continuerò ovviamente a tenere d'occhio. Prelude con Tales of the Week Atmosferic Black qui, questa volta, proveniente dalla Francia. Anche qui abbiamo un sound aggressivo, con chitarre che la fanno quasi da padrone, anche se troviamo una base di tastiera che si fa notare in qualche momento. Ha un sound molto, ma molto raw, una chitarra molto distorta e un ritmo prevalentemente veloce. Mi spiace di non averlo approfondito più di tanto, però dal sound, devo dire, mi ricorda molto Frozen Dreams, ma il Frozen Dreams è quello degli album più aggressivi, come ad esempio The Clips of Eternity, che è proprio l'ultimo. Il sound non è proprio quello, ma è un esempio per farvi capire il tipo di Atmosferic Black proposto da Prelude. Nostalghia con Homile Deliverne. Io sinceramente vi propongo Homile Deliverne, anche se sono usciti anche Wounds e Olvido. Homile Deliverne su Metallum è considerato un full length e lo sapete, io mi affido completamente a ciò che è scritto su Metallum, perché per me, signori, è la Bibbia. Qui i lavori sono tre, come vi ho detto, ma io ho ascoltato solamente Homile Deliverne e gli altri me li sono persi. Di questo vi posso dire che è una bomba di malinconia e di depressione. Si evince che, anche solamente dalla copertina, e sapete che io giudico parecchio la copertina, giudico parecchio l'album anche solamente dalla copertina, perché deve trasmetterci il mood che deve trasparire dal CD. Insomma, è un album che ho ascoltato molto volentieri, mi è piaciuto anche abbastanza, non alla follia, ma comunque mi è piaciuto. Prepotente sia dalla voce che dalle chitarre, ci trasmette uno stato di dolore che pochi, veramente in pochi, riescono a fare. Poi se andiamo a leggere i testi, lasciamo perdere proprio. Mirk Ghand con Rituals and Wisdom. Uscito anche questo troppo tardi e me ne sono accorto ancora di più, notai l'uscita quasi a fine dicembre, e praticamente io ho dato un ascolto velocissimo. Fatto sta che è comunque un black metal melodico, a tratti quasi epico, anche questo, se siete fan di Moon Gates Guardian e Keys of Hortank, vi troverete bene. La voce varia da uno scream a un growl molto potente. Spero di approfondirlo in un futuro, visto che ha un sound che mi ha attirato parecchio, devo dire. E il mix è molto pulito e hanno fatto un lavoro egreggio. Complimenti. E quei signori, io... Mannaggia. Moon Gates Guardian con The Wind Overdale. Chi mi conosce sa quanto. Io e questo duo russo non andiamo d'accordo. Ci sono svariate cose che non mi piacciono di loro, ma forse questa è l'uscita che almeno temporaneamente le cancella. È vero che tra i gruppi Atmosferic Black che parlano di Tolkien li ho sempre messi all'ultimo posto in classifica, ma forse questo è il momento ed il lavoro con cui si sono riscattati. È vero che anche questo album non l'ho ascoltato tantissimo, ma devo dire che già dal primo ascolto si sente che la componente atmosferica è molto più marcata e presente del solito. Quindi finalmente un ottimo lavoro anche da parte loro e devo dire che non me l'aspettavo. Poi abbiamo Moll con Diorama. Difficile... Devo dire che è difficile stavolta recensire questo album con pochi ascolti. Questo probabilmente è un album che avrebbe meritato molto di più. Fatto sta che allora i Moll si sono già distinti nella loro scena per la loro bravura nel comporre. Portano Black Gates che già di per sé non è un genere facile all'ascolto. Se vi siete già immersi nel genere, in questo genere appunto, nel passato e vi piace qualcosa di difficile ascolto, questo sicuramente è un album che fa il caso vostro. E questo gruppo lo consiglio, questo album lo consiglio a chi piace, a chi piacciono Arakiri for the Sky e Alcest. Mammaev Kurgan con Destruction That Wasted at Nonday. Mamma mia regala la pronuncia. Scoperto per caso quest'anno, proprio con l'uscita di quest'ultimo album, forse anche poco più tardi dell'uscita, insomma, diciamo giù di lì comunque, progetto One Man Band Italiano. Damiano Ciri ci propone un classicissimo black metal, semplice, basico, ma fatto bene anche nelle tematiche. Ho approfondito poco, spero di poterlo ascoltare di più in futuro. è il suo primo full length e devo dire che, nonostante sia il suo primo lavoro, non è uscito per niente male, anzi. Lo consiglierei a chi piace il black metal classico, è a un sound pulito, c'è anche un abbozzo di tastieri sottofondo, ogni tanto ha la Emperor, per cui... complimenti come prima uscita, devo dire che ci sta tutta, perfetta. Liminal Shroud con All Virtues Ablades. È un black metal introspettivo e ho scoperto quest'uscita un po' tardi, molto tardi, non sono riuscito a dedicargli un ascolto molto approfondito, ed è ciò che meriterebbe questo album. È molto probabile che questo album, con più ascolti, sarebbe entrato nelle mie grazie, ed è per questo che mi sento di consigliarvelo vivamente. Mi piace moltissimo la voce con un pizzico, pizzichino di riverbero quasi impercettibile. Il sound è pulito e a tratti mi ricorda anche il post black metal. Abbiamo i Drudk con All Belong to the Night, titolo tradotto in inglese. Probabilmente sarò reputato uno stronzo, però sappiate che me ne sono accorto tardissimo dell'uscita di quest'album. Già di per sé l'album è uscito a novembre, quindi l'ascolto sarebbe già di per sé stato limitato. Poi, non seguendo il gruppo, io l'ho scoperto ancora più tardi, è che la la che si trova in questo punto della classifica. Allora, me ne sono accorto anch'io con pochissimi ascolti. Quindi questo album vale la pena di essere ascoltato ed essere approfondito soprattutto, fidatevi. Allora, abbiamo Agato Diamond con The Seven. Cosa abbiamo qui? Un gothic metal fusionato al black metal, quindi è un gothic metal fatto bene. Per gli amanti del gothic mi sento di consigliarvelo, anche se secondo me non arriva ai livelli di Grime Beatrice di White Egregore. Però, però, probabilmente le mie parole sono frutto di pochi ascolti, eh. Il gruppo è comunque sotto Napalm Record, quindi direi che il fatto loro lo sanno. Diciamo che comunque non è che stanno lì tanto per... Il sound comunque è molto pulito. Pare che sto dicendo sempre le stesse cose, fermatemi! Gli FT-17 con AIN 1914. Sarò abbastanza... Sono stato abbastanza cattivo con loro, perché sicuramente è un buon album. Ne risente moltissimo, però, di una cosa. Il fatto che nel genere ci sono dei giganti come i 1914, i Cannon & Fibber, i Mind & Warfare... Regà, purtroppo nel genere... In questo genere, sotto categoria del black metal, non è che c'è tanta concorrenza. È solo che ci sono dei gruppi talmente grandi che fanno bella musica, che se ne arriva uno che fa musica normale... Eccala che... Non è malaccio come album, eh, regà. Io comunque, ecco, ho fatto un po' di fatica ad accettare il cantato francese. L'album possiede un piano che addolcisce il tutto, rende tutto un po' più melodico. Di certo, ecco, se vi aspettate un gruppo alla Cannon & Fibber, vi roinate l'esperienza. Dovete calcolare questo. Gli FT-17, purtroppo, al momento, al momento, non sono come i Cannon & Fibber, come il 1914. Diamogli tempo, vedrete che l'impegno sarà sicuramente ripagato. Fidatevi. Tra l'altro ci hanno fatto pure un tour con i Cannon & Fibber. C'è una foto troppo bella che ve la faccio vedere. Ah, arriviamo ad un altro album che è parecchio interessante, a parere mio. Sto parlando dei Digir Gidim, con The Celestial Macrogosmic Scale and the Shimmering Path of the Supreme Regulator. Mamma mia, ci ho messo cinque minuti solo per leggere il nome del CD. Solamente per leggere il titolo ho dovuto cambiare un polmone. È un album che ho scoperto da poco, ed è anche complice probabilmente la tarda uscita, il 18 novembre. È un album che va assolutamente, assolutamente approfondito, sia per le tematiche affrontate che per il sound. Sicuramente non si presta ad un ascolto facile, ma non è un album che scarterete subito dopo averlo ascoltato la prima volta, ecco. È un album che si lascia ascoltare, nonostante il sound molto complicato. E per quanto riguarda il concept di questo album, andiamo a parlare dell'antico culto della Mesopotamia, quindi si parla di misticismo, annunnaki. Insomma, regà, è un argomento tanto complesso, ma non avete idea e soprattutto è difficile da riassumere in quattro righe. Dovete andare ad ascoltarlo, però vi ci infognate, ve lo dico, se andate a ascoltare, se andate a cercare, insomma, il concept. Finalmente è arrivato. Finalmente è arrivato. Regà, io l'avrei voluto mettere troppo più in là, cioè molto più su questo, ve lo dico. Darktron con Astral Forest. Io vi dico la verità. Io non ho avuto problemi, non ho avuto problemi ad ascoltare quest'album. Si trova qui solamente perché gli ho dato un ascolto, ma non sono... Cioè, gli ho dato un ascolto e sono riuscito a capire grosso modo di che pasta è fatto. Non ho avuto problemi perché questo è effettivamente il primo album che ascolto dei Darktron, quindi non avevo aspettative su di loro. Ho visto e letto svariate recensioni su questo album. Diciamo che quella con cui mi trovo molto più d'accordo, diciamo, quella con cui mi trovo più in sintonia di recensione è quella di Alle Cuochi, che è riuscito a fine video a farmi proprio appassionare, a dirmi, mi sa che quest'album me lo devo andare a sentire. Alle, se stai vedendo questo video sappi che mi hai convinto ad ascoltare questo album. E infatti eccolo qua. È proprio qua in classifica. Questo, secondo me, è quello che dovrebbe fare un recensore. Convincerti ad andare ad ascoltare un album. Grazie Ale. Black Braid con Black Braid One. Allora, questo è un album che ha catturato subito la mia attenzione, subito dal singolo, che era uscito prima dell'album. Il singolo si chiamava Barefoot Ghost Dance on the Blood Socket Soil. e purtroppo non l'ho recuperato subito l'album. Fatto sta che comunque merita una menzione speciale in questa classifica. È un atmospheric black metal aggressivo, molto aggressivo, basato sull'arroganza delle chitarre e il concept è veramente assurdo. Fuori di testa. Parla di nativi americani e tutta la mitologia che c'è dietro. Quindi io, regà, spero di poterlo recuperare in futuro e dargli l'attenzione che merita. Partiamo con la classifica un po' più importante, diciamo. Allora, partiamo con il diciottesimo posto. Al diciottesimo posto troviamo Saur con Origins. Mamma mia, regà, diciottesimo posto Saur. Ora, spero di pentirmi in futuro riguardo quest'album. Non è che fa schifo, eh, per carità. Questo è un album che almeno inizialmente mi aveva catturato. Inizialmente parlo di quando erano usciti singoli. Poi, uscito l'album, non so cosa sia successo. L'ho ascoltato nell'anno. È stato sovrastato da altri album che poi troverete sopra. In realtà è un album eccellente, come dicevo. Non è che fa schifo. È un album all'altezza di Andy che è un compositore e un musicista enorme. Riesce a ricreare un'atmosfera, regà, unica. Poi, per chi come me è fan di Saur, consiglio di recuperarlo. Lo farò anche io in futuro. Poi, però, il fatto è che non è, almeno a parere mio, un album ai livelli di Guardians. Cioè, che ti riesci a catturare sin da subito. Ripeto, è comunque un album eccellente, eh. Non è che sto dicendo che... Non è un album a livello di Guardians. Però, ci sta. Al diciassettesimo posto troviamo Slytherin con Tales of the Onksmaid Village. Allora, per chi mi segue da tanto sa quanto io ami l'Atmosferic Black. Sa quanto io ami Sammoning. E questo album sarebbe dovuto stare in top ten. Che è successo? Perché sta qua? In realtà me lo sto chiedendo anch'io. Conosco il valore e lo splendore di questo album. Ma non ero nel mood per poterlo apprezzare al meglio. Probabilmente qualche anno fa questo album sarebbe entrato di prepotenza nella top ten. Mi dispiace veramente tantissimo perché comunque è un album che merita. Spero finalmente comunque di farmi una bella passeggiata immersa nella natura ascoltando quest'album sublime. Sedicesimo posto troviamo Beleriand con In the Book of Life Leaf Tarned. Anche qui stesso discorso che ho fatto per Tales of the Onksmaid Village più o meno. L'album l'ho scoperto quasi per caso. Poi tra l'altro chi mi segue lo sa come l'ho scoperto ed è andata veramente così. Purtroppo o per fortuna quest'anno sono uscito da quel mood di malinconia perenne. E quindi non riesco ad apprezzare più quel sound. Questo tipo di sound che ascoltavo prima. O mi colpisci subito come Eldamar, come Elderwind. Io sono sicuro che comunque uno di quei due album di Eldamar o di Elderwind sarebbe entrato comunque a mani basse in classifica. Oppure ecco va a finire così. Riconosco comunque la grandiosità di questo lavoro e spero di poter fare anche con quest'album una bella passeggiata nella natura, immerso nella natura. Ricordando appunto quei momenti di pura malinconia nel modo giusto. Quindicesimo posto troviamo Olava con Reborn. Mi dispiace che ogni anno Olava non riesca ad entrare in classifica. Puntualmente c'è lo sbarramento per Olava. Più di quello non riesce ad andare. È comunque un progetto che è molto difficile da ascoltare e da digerire. Come al solito, l'ho sempre detto di Olava. Stiamo parlando di un'atmosfera black, post black, black gates. Sembra quasi un mischione di cose, però quello che ci propone il duo di San Pietroburgo è questo, insomma. È inutile che ve lo nego, l'ascolto di questo album è difficilissimo. È veramente difficile. O lo si ascolta concentrati nel mood giusto o si folda dopo neanche due minuti. Le canzoni sono lunghissime, durano per giù 16 minuti anche. Ariano a durare 16 minuti. Mirror, che è la prima canzone, pensate, ci impiega ben 4 minuti per partire. È comunque un lavoro che piace se avete apprezzato la doga. Io l'ho apprezzato la doga, per cui vi posso dire che anche questo è un album che si fa ascoltare nonostante tutto. Però dovete essere concentrati nel mood giusto. E anche quest'anno purtroppo, cioè, Olava mi dispiace, raga. Non riesce ad entrare. Non mi dispiace veramente tanto. È difficile per Olava, però. Devo dire però che comunque sia con gli anni loro riescono ad essere costanti e coerenti nel tempo. Che questa cosa mi piace moltissimo. Quattordicesimo posto troviamo Actarum con Trollvengers. Mamma mia, mannaggia a loro. Sarebbero potuti entrare tranquillamente in classifica. Questo è un album che ho letteralmente divorato quest'anno. E qui non ci sono scuse. Sono talmente bravi che neanche lo fanno sembrare black metal. Cioè, raga, è incredibile. È un gruppo che può essere alla portata di tutti. Sono dei cazzoni. Hanno delle tematiche leggere, fantastiche. È quel tipo di folk che ti fa ballare. Ti fa appassionare allo stesso tempo. Riesce ad avere una componente epica. È un gruppo che fa per voi se vi piacciono i Bloodica Scald. Se non li conoscete andate a sentire anche loro. Un saluto a Bloodica. Ciao, raga. Tredicesimo posto. E qui cominciano ad essere belle band interessanti. Troviamo Grima con Frostbitten. Che è successo qui? A parere mio, niente. Perché è comunque un ottimo album, per carità. Non è a livello di Rottengarden. Come dissi nel video, non dobbiamo aspettarci un sound come quello del suo fratello maggiore Rottengarden. Perché cambia il concept, quindi cambia anche il sound. È giusto da parte loro, come scelta artistica, fare una cosa del genere. Sono giustificati a farlo. Ma io, da ascoltatore, che amo l'Atmospheric Black, devo dare anche ascolto a ciò che io voglio sentire. Ciò che il mio orecchio vuole sentire e ciò che mi dice il cuore. È un album che comunque merita. Che va capito, come dissi anche nel video in cui parlavo dell'uscita. Quindi, confermo il mio giudizio che vi avevo dato quando ne ho parlato quest'estate. Che ho avuto ascoltando l'album proprio prima di quel video. In caso lo siete perso, ve lo lascio qui. Così non andate a vedere che ne parlo in modo approfondito. Tra l'altro, lo dissi. Quest'album sicuramente non è da top ten. Però, ci manca poco. Confermo quello che ho detto. Al dodicesimo posto. Questa è una bella chicca, signori. Vi devo... Ti devo fare i complimenti. Non mi aspettavo che arrivavi così su, eh. Agree? Fa che noi possiamo vivere ancora. Di Caos Luciferi, signori. Questo è un album che veramente ha tanto, tanto da dire. A me piange il cuore non averlo messo più su, più in classifica. Purtroppo non entra per veramente un soffio. Davanti a lui, prima della top ten, c'è solo un album. Devo dire belle palle. Perché comunque in questo album hai ricreato delle atmosfere pazzesche. Che perfette appunto per il concept che ci proponi. E ci parla... Ovviamente questo album ci parla della terra di Cristian. Delle sue leggende appunto. Venezia è una città piena di storie da raccontare. Di misteri che probabilmente non conoscono neanche le persone che ci abitano. E devo dire che quest'album è pazzesco. Complimenti veramente perché veramente hai creato veramente un bell'album. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo di arrivarti a mettere fin qua su. Veramente. Undicesimo posto e poi si va alla top ten, signori. Undicesimo posto lo vince. Lo vince se così vogliamo dire. Dark Bard con Endender in Silence. Un progetto Atmosferic Black così bello, signori, non l'ho ascoltato da parecchio tempo. Questo è un album che si fa ascoltare da subito. È un album di cui non ci si stanca così facilmente. Se vi piace l'Atmosferic Black io vi consiglio di farvi un bel giretto nella natura. Contemplandola appunto mentre ascoltate questo album. Io l'ho fatto nella prima parte dell'anno. Devo dire che rientra negli album piacevoli da ascoltare mentre si è in mezzo alla natura. Ed è giusto, come è giusto che sia per quanto riguarda l'Atmosferic Black. Entriamo nel vivo, nel vivo di questa classifica finalmente. E andiamo a parlare dei migliori album. I top 10 migliori album di quest'anno Black Metal. Allora, partiamo con il numero 10. Al numero 10 troviamo niente po' po' di meno che Ljulf Ednar con Il Culto dell'Agonia. Allora, qui signori cominciamo a fare sul serio e entriamo nella top 10. E Il Culto dell'Agonia vi posso assicurare che è un ottimo album Black Metal classico sfornato dai nostri amici di Roma, Ljulf Ednar. Secondo me non è l'album della maturità artistica anche se ci manca veramente poco. Così ci manca. Ragazzi, l'avete sfiorata tanto così, ve lo dico. Cioè, manca veramente poco, manca. Comunque questo è un album di un ottimo livello e sono sicuro che il prossimo sarà sicuramente l'album che li consacrerà definitivamente. Come io dissi nella recensione che ho fatto su Instagram, questo è un album impegnativo che ha tanto da dire che ogni volta che lo si ascolta si scopre sempre qualcosa di nuovo ma si può scegliere anche quanto impegno dedicare a questo album. Nel senso, è sì un album impegnativo ma si riesce ad ascoltare anche senza impegnarsi più di tanto. sta a voi quanto tempo dedicargli, quante energie dedicargli, quanto concentrarsi per voler andare a fondo di questo album. È un album che lo potete ascoltare così, tanto per, come è un album che lo potete ascoltare perché ha un senso, ha più di un senso, è molto profondo e sinceramente c'è tanto, tanto che questo album vi può lasciare. Complimenti regà perché avete spaccato veramente tanto i culi. Quest'anno regà avete spaccato tanto e ci è mancato tanto così, ci è mancato tanto così, eh. Allora, al nono posto troviamo Cycles of Primal Chaos dei Nazgul Rising. Secondo me questo è più o meno quasi allo stesso livello degli Ulfednar, ma quel piccolo passetto in più lo hanno fatto proprio i Nazgul Rising perché hanno fatto, hanno creato delle orchestrazioni fantastiche, fantasmagoriche, che mi hanno conquistato a prima ascolto. Allora, con questo non voglio dire che i Nazgul Rising abbiano fatto un album un po' diciamo più basso livello anche perché sono gli Ulfednar che hanno fatto un album molto meglio, cioè che non vale il decimo posto sicuramente. Però, eh, le devo dire che dovevo scegliere, in questo caso ho scelto. Come ho detto nel video che ho dedicato appunto a questo, a questo CD. Ovviamente ho qui, cioè, ve l'avevo fatto vedere, eccolo qua. Come ho già detto nel video che gli ho dedicato, hanno un concept molto pessimistico e delle orchestrazioni molto simili a quelle degli Emperor che praticamente ti conquistano subito. Se ti piace il Symphonic Black, questo è un album che devi ascoltare assolutamente. E una voce veramente a dir poco esplosiva. È un album che ti conquista da subito e soprattutto non è per niente scontato da dire, non è per niente facile più che altro. È un album che non ti stufa, nonostante i vari ascolti ripetuti nel tempo, non è un album che stufa. E non è una cosa... non è una cosa così, eh, questa, regà, ve lo dico. Una special mention va all'ultima canzone, From the Depths of Aides, che in alcuni momenti trasmette delle vibes molto space black e burzumiane. Cioè, molto atmosferica, diciamo. Ho coniato un nuovo termine, regà. Grande scoperta, regà, veramente. E spero di vedervi suonare live prima o poi. E aspetto soprattutto con ansia, quando arriverà, con molta calma, non c'è fretta, un nuovo lavoro. Perché, regà, bello, 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 bello. Allora, ottavo posto troviamo Ara con Triade 2, Emera. Allora, forse per questo album l'ottavo posto è un po' pochino, perché io so quanto questo gruppo merita. E merita molto di più, molto di più. Io lo so benissimo. E il fatto è che... Poi vedrete, insomma. È un album che però, ve lo dico, io non ci ho nemmeno pensato. A mani basse. Lui è entrato in classifica proprio a mani basse. Nei migliori uscite black metal di quest'anno. Una voce molto scheletrica, ma tanto scheletrica. Mai sentita prima. Ha dei ritmi super incalzanti. Con chitarre, con un tremolo devastante. E soprattutto, regà, questo consiglio, questo album, a chi è un cultore di Aoratas e Achilles. Un cultore di quel black metal molto inquietante, insomma. È il secondo album che porta avanti il concept basato sul romanzo gotico Melmoth Lerrante, scritto da Charles Robert Maturin, che tra l'altro non è uno scappato da casa, così è il prozio di Oscar Wilde. E ha scritto questo romanzo nel 1820. Credo questo sia un buon romanzo da approfondire, per capire bene che cosa ci stanno proponendo gli Aara. Dategli un ascolto e fatemi sapere, comunque sia. Ah, il settimo posto, regà, non potete capire quanto mi sto per liberare in questo momento, regà, è da un anno che sto, che sogno di dirlo. Il settimo posto, regà, troviamo. T-S-N-R-I, in permanenza, dei Duir. Regà, finalmente posso dirlo. I Duir sono entrati in classifica. Mamma mia, regà, avete fatto un album che manco ve l'ho immaginate. Mamma mia, mamma mia, che album, signori. Comunque, qui c'è da dire veramente tanto, e non so quanto riuscirò ad essere sintetico. Come sound, praticamente, è molto simile a Saur, ed è un album di fortissima introspezione personale, questo. È uno dei migliori album usciti quest'anno proprio a mani basse. Ma proprio a mani basse! Io neanche ci ho pensato, ho detto i Duir entrano in classifica, punto. E sono entrati. Non mi sono fatto problemi, perché questo è un album, regà, fantastico. C'è veramente di tutto in questo album. Questo album è un viaggio, e come ogni viaggio ti lascia qualcosa dentro. È un turbinio di emozioni. E basterebbe proprio un minimo di empatia per poterle sentire e riconoscerle, insomma. Se volete approfondire, comunque sia, questo album, io vi rimando al sito di Mr. Folk, che è una figura molto nota per chi bazzica qui a Roma, che sicuramente lo conoscerà di persona. È molto importante, insomma, nel nostro ambito. Per gli altri, molto probabilmente, lo conoscerete tramite i social. Lui ha un sito di recensioni, regà, fa un lavoro, regà, enorme, folle. Cioè, veramente folle. E ha fatto, praticamente, un'intervista ai Duir. Io vi consiglio di andarla a leggere, perché è molto, molto interessante, per capire meglio e approfondire questo album. Fidatevi che ne vale veramente la pena. Signori, regà, signori Duir, complimenti. Cioè, regà, complimenti. Io non so come dirvelo. Cioè, vabbè, insomma. Sesto posto troviamo There Inevitably Will Be Silence The Wind Veil. E anche qui, signori, qui il sesto posto. Qui al sesto posto. Troviamo un album di debutto. Ma io vi posso dire tranquillamente che non è per niente strano, almeno per me. Perché ci sono dei progetti che già dal primo album sono dei capolavori. Ma dei capolavori. Signori, Wind Veil, ne è l'esempio perfetto. è un atmospheric black che ti cattura subito dalle prime note. E vi giuro che certe volte mi chiedo come facciano ad esistere, come possano esistere degli album del genere che ti catturano così, sin da subito. Questo, regà, è l'album perfetto per noi che ascoltiamo l'atmosferic black. Ha un sound molto pulito e dei concetti melodici che si ripropongono in tutto l'album senza mai stancare. Poi è tutto un dire che non stancano. Cioè, nel senso, chiariamo subito. Chiariamo subito. Se non vi piace l'atmosferic black è ovvio che mi dite che questo è ripetitivo. L'atmosferic è così. Punto. O lo ami per così com'è o lo odi. Quindi, se vi piace l'atmosferic questo è un album, regà, che va ascoltato. Cioè, che è top. Top, regà. Proprio top atmospheric di quest'anno. Questo è un altro album che aspettavo da tanto. Questo è un altro album che aspettavo veramente da tanto per finalmente schiaffarlo in classifica e dirvi questo album è clamoroso. Al quinto posto io, regà, l'avrei fatto salire anche di più però non ce l'ho fatta. Al quinto posto troviamo Beyond Melancholy con The Pleasure of Suicide. E da qui, qui, signori, è follia. Qui è follia. Follia proprio. siamo arrivati praticamente a uno dei miei degli album dei miei album preferiti di quest'anno e finalmente posso dire cosa penso di questo album. Allora, io qui io qui mi sto per prendere tutte le responsabilità di quello che sto per dire. Me ne prendo la responsabilità. Questo è un mio pensiero personale. Io posso dire qui davanti a tutti che Aborim in questo album ha pisciato in testa ha pisciato proprio in testa tutta la scena di SBM. Tutta! Cioè tutta, regà. Questo album, signori, è uno schiaffo in faccia proprio ad artisti che lo fanno da anni. Ad artisti che fanno questo genere da anni. quest'album riassume tutto il dolore la tristezza il malessere che ci accompagna almeno almeno una volta nella vita. Ha un sound monotono malinconico una chitarra ronzante una voce tipica del DSBM e regà io spero che Aborim adesso guardi questo video io devo dirtelo tu sei un eroe tu sei stato veramente un eroe perché io sono sicuro che tu non te la sei passata bene e nonostante tutto sei riuscito a convogliare tutta questa energia negativa e tutto questo tormento l'hai chiuso in un album di DSBM io sono sicuro ci metto la mano sul fuoco regà perché per creare un album del genere purtroppo per creare un album del genere regà non è una cosa che poi che ti svegli la mattina e dici io oggi voglio fare Depressive Suicide No DS per forza DS per forza frutto di un periodo buio molto buio della tua vita amico mio io ti sono veramente vicino spero che sia passato ma soprattutto soprattutto io vorrei ringraziarti per aver condiviso con noi non solo la tua arte ma anche ecco i tuoi sentimenti come puoi ben vedere anche nei periodi più bui della della vita può uscire qualcosa di mai visto prima che comunque non si può replicare quando si sta bene grazie amico mio veramente quarto posto troviamo i Witcher con l'Elecra l'Elecarang è veramente un album fuori di testa questo è un album fuori di testa allora anche qui questo su Spotify è considerato un EP però su Metallum è un full length checkmate Spotify allora questo è un album che mi ha fatto letteralmente impazzire roba proprio da fischiettare il motivo della intro o delle varie canzoni al lavoro tutto il turno proprio tutto il turno cioè ha una forte componente pianoforte che rende il tutto melodico cioè melodico in una maniera incredibile è un atmospheric black che ci riporta al periodo della caccia alle streghe in Ungheria quello che mi ha mandato veramente poi al manicomio più di tutto come se non bastasse tra l'altro tutto quello che c'è nell'album quello che mi ha mandato proprio al manicomio è la outro che che poi è la moonlight sonata opera 27 di Beethoven che veramente è un notturno pazzesco io non so come spiegare la reaction che ho avuto quando l'ho sentita per la prima volta l'outro perché sono andato fuori di testa proprio fuori di testa un grazie di cuore veramente a chi mi ha consigliato quest'album non ricordo adesso chi è e dove mi è stato consigliato comunque grazie grazie perché voi non ve ne rendete conto ma ogni tanto ci prendete a consigliarmi gli album e eccolo qua è rientrato al quarto posto in classifica e non è l'ultimo e non è l'ultimo aha adesso si fa sul serio veramente veramente sul serio perché abbiamo il primo vero scontro il primo big match diciamo il big match della classifica è stato questo è stato lo scontro proprio clamoroso tra il secondo e il terzo posto al terzo posto quindi perde tra molte virgolette lo scontro per il secondo posto a Tears for the Summer Rain di Lustre raga qui c'è sappiate che qui c'è stato un incontro di box praticamente sono data di santa ragione però purtroppo Lustre quest'anno perde e arriva al terzo posto poi stranamente gli dice sempre male al next date perde sempre i scontri decisivi se calcolate che nel 2020 sempre Lustre ha perso lo scontro per il primo posto con Emin Moil comunque allora qui c'è tanto da dire ve lo dico qui regà mi trovate rimane il fatto che lui porta dei lavori di uno spessore incredibile voglio dire stiamo parlando comunque di un terzo posto non è che stiamo a parlare di un fondo classifica anche che però vi voglio dire il fondo classifica è meglio di non essere entrato poi regà come vi posso come vi dico sempre tanti non l'ho ascoltato per cui vorrei parlare anzi tornare sul discorso noia che ho fatto prima perché io ho sentito dire da molti e non solo di voi anche perché ho trovato una recensione che parlava di questo album e ho sentito dire praticamente anche tra quelli che mi seguono che dicevo che quest'album è noioso allora io non ve ne so io non ve ne voglio dare una colpa perché non vi darò mai una colpa perché questo purtroppo è un genere per pochi lustre ha un target di persone cioè un target distinto di persone se questo album vi annoia non siete nel target di persone quindi non ve ne posso dare una colpa però vorrei farvi ragionare vorrei un attimo farvi ragionare perché comunque lustre è sempre sempre stato un amante dei giri di tastiera che non finiscono mai cioè se voi mi dite che quest'album è noioso another time another place sia la parte 1 che la parte 2 non la potete ascoltare green world green world di wonder signori dreaded steel nestled within di steel innocence di steel innocence cioè regà parliamone di canzoni noiose ne ha fatte a bizzeffe waves of war regà waves of war è un cazzotto nello stomaco eppure io riesco ad ascoltarla cioè non voglio far quello che dici ci sono riuscito vi posso dire che non è così noioso come si dice questo per dirvi però comunque che per apprezzare l'ustre ci vogliono anche le palle le palle quadrate perché ci vogliono ci vogliono veramente regà ci vogliono delle palle enormi enormi per ascoltare la musica di l'ustre io diciamo che ho imparato ad apprezzarne ho imparato ad apprezzarne con il tempo i giri infiniti ripetitivi noiosi di tastiera perché fanno parte appunto di un progetto più grande quello di trasmettere una certa malinconia una solitudine che solo lui riesce a trasmettere in questo modo detto questo spero che non la prendiate come un'offesa perché comunque io sto cercando di spiegarvi in poche parole quello che dovreste fare per comprendere l'ustre se fate parte di quelle persone che non riescono ad ascoltare l'ustre vuol dire solamente che non è questo il momento tenetevelo da parte tornateci in futuro chiedatevi funziona funziona sempre quando sarete in grado di capirlo un pochino di più quando sarete un po' più maturi musicalmente parlando e devo dire che parlando sempre del sound ha raggiunto quel tipo di sound pulito e molto godibile sotto questo punto di vista questo album è un percorso e come ogni percorso ha un inizio ed ha una fine il mio consiglio è quello di provare a prendere un paio di cuffie isolarvi ed ascoltare questo album lasciandosi andare ad occhi chiusi se voi lo trovavate noioso provate così e provate senza avere troppe pretese su questo album lasciatevi andare non abbiate pretese ascoltatevelo così com'è senza pensieri fidatevi secondo posto vediamo un po' chi ha vinto il secondo posto secondo posto signori lo ha vinto Ims to the Lunar Realm di Loon mamma mia mamma mia io regavo i brividi solo a pensare l'epicità di questo album io anche qui devo ringraziare di cuore chi me l'ha fatto scoprire perché questo perché questo signori miei è un album con cui ci con cui ci si va in fissa già dalla prima nota e fidatevi fidatevi se io vi dico dalla prima nota questo è un album con cui ci si va in fissa la prima nota rega duro che dalla prima nota già capite l'epicità dell'album c'è stato un momento in cui ho pensato che questo potesse essere il miglior album dell'anno però ragionandoci il vero scontro non era per il primo e il secondo posto bensì quest'album se lo doveva andare a scontrare con Lustre perché c'è stato un momento in cui ha rischiato anche di arrivare terzo questo album ritornando a noi comunque io vi sfido ad ascoltare questo album regà vi sfido vi sfido vi sto sfidando in questo momento ad ascoltare questo album i primi 10 secondi senza rimanerne affascinati vi sfido cioè regà follia follia regà st'album è folle io vi voglio riportare comunque un commento che ho letto su youtube riguardo questo album proprio sul sul cioè sul video di questo album anche perché si trova solo lì era scritto proprio man that was a lofty album sometimes cosmic feelings sometimes medieval sometimes medieval but always seemed seemed very high minded tradotto in poche parole un album della madonna un album della madonna alle volte trasmette vibes cosmiche da space black alle volte vibes medievali è praticamente a metà tra lo space black e l'epic ed è un album veramente clamoroso ma veramente clamoroso è uno dei migliori album black metal di quest'anno e forse anche di sempre questo signori miei ve lo dico tranquillamente ve lo dico proprio tranquillamente questo è un album da primo posto questo è un album da primo posto peccato che ogni volta gli album da primi posti sono sempre secondi ogni anno c'è sempre un album che meriterebbe il primo posto peccato che c'è sempre l'album che che il primo posto non glielo può lasciare mi dispiace però questo è il massimo che poteva puntare un album del genere qui manca effettivamente in questo album manca una cosa fondamentale che gli è costato il primo posto musicalmente parlando è perfetto è la perfezione è un atmospheric black partorito da una mente che a parere mio non è di questo mondo è un album che dovete ascoltare assolutamente 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 signori comunque complimentoni vivissimi io aspetto con ansia il suo approdo su spotify perché lo devo consumare in macchina allora regà per i più attenti vi faccio uno spoiler si saranno resi conto per i più attenti che fino ad ora ho nominato ho parlato di 38 album mancano all'appello due album e siamo arrivati al primo posto siamo arrivati al primo posto perché quest'anno il primo posto è condiviso da ben due album che secondo me era impossibile era impossibile scegliere era impossibile scegliere questi due colossi quest'anno i migliori album black metal sono ben due vi li faccio vedere Daidalos con The Expedition e Incantum con Strigae e già e qui signori mi dispiace mi dispiace ma abbiamo fatto come Tamberi come Tamberi alle olimpiadi che ha deciso di condividere il primo posto ma io regà per me vi dico la verità per me a parere mio era impossibile scegliere era veramente impossibile in questo caso non potevo scegliere il primo posto era impossibile questi album secondo me sono allo stesso livello sono due album questi sono due album da primo posto tranquillamente tranquillamente proprio quest'anno abbiamo proprio visto due album da primo posto io non potevo non potevo far arrivare uno dei due secondo perché ci ho pensato regà ve lo giuro è da quando è uscito Strigae di Incantum che io sto pensando a quale dei due fosse migliore nessuno dei due è migliore sono entrambi allo stesso livello qualitativamente sono due album perfetti entrambi hanno studiato un concept e lo hanno sviluppato nel modo più giusto nel modo più giusto e soprattutto come dire nel modo più appropriato per i mezzi che avevano gli artisti nel senso abbiamo da una parte un clarinettista fantastico che è Incantum Strigae infatti in Strigae abbiamo un clarinetto fuori di testa poi vabbè ve l'ho parlato pure nel video dall'altra parte abbiamo un un Symphonic Black regà folle pazzesco pazzesco veramente in entrambi i casi come è stato sviluppato il concept regà per come è stato sviluppato il concept in entrambe le parti non poteva essere fatto meglio e io regà ve lo giuro sono fuori di testa cioè allora parliamo di di Daedalos The Expedition il concept per chi non l'ha visto il video in cui ne parlavo praticamente parla della spedizione nell'Artico capitanata da Sir John Franklin la spedizione del 1845 che mirava a trovare il passaggio a nord ovest attraverso il Canada Franklin nella sua squadra pensate 129 uomini partirono con due navi l'Erebus e la Terror ma non fecero più ritorno non fecero mai ritorno furono poi tentati diversi salvataggi negli anni successivi ma non fu scoperto cosa fosse veramente successo alla squadra fino a quando non furono trovati appunto i resti delle navi e dei membri dell'equipaggio negli anni 40 e 50 del XIX secolo si pensa che la squadra abbia sofferto di carenze alimentari di malattie condizioni climatiche estreme insomma raga capite quanta roba c'è dentro ed è tutto riassunto in questo album nel modo più giusto nel modo perfetto come posso dire e ci sono in questo album veramente ci sono tutte le paure le emozioni l'andare incontro alla morte io raga in questo album sono riuscito a sentire veramente tutto questo per quanto riguarda strigae streghe l'ho chiamato streghe perché non so come insomma come la giusta pronuncia qui parliamo di stregonerie e caccia le streghe allora più precisamente delle lami e del centro Italia vi faccio un riassunto per chi non ha visto il video però andatevelo a recuperare che ne parlo bene in quel video in poche parole le lami sono figure mitologiche della tradizione popolare italiana in particolare quelle del centro Italia e sono descritte come donne bellissime ma malvagie che si trasforma in una sorta di spirito maligno per attirare gli uomini e poi ucciderli spesso sono associate a luoghi solitari come fiumi laghi grotte e si dice che possono essere scacciate da preghiere o avuleti in alcune leggende le lami sono descritte come donne che hanno subito una morte violenta o ingiusta e si sono trasformate in spiriti vendicativi esse sono molto simili sono anche simili ad altri mostri femminili della tradizione europea come le benshi come la benshi irlandese o la succuba medievale e in poche parole dopo questo spiegone dopo questo spiegone insomma anche in questo album diciamo la fata padrone il concept e se non avesse un concept questo album sarebbe bello per carità ma non da primo posto cioè perché il concept spiegato in questo album è spiegato talmente tanto bene sia musicalmente che nei testi che veramente lì fuori non si trova di meglio ma proprio non ci si trova perché regà io ve lo giuro Vittorio è riuscito a tirare fuori un album che mi ha trasmesso delle emozioni regà a dir poco a dir poco fantastiche perché è riuscito come Da Idalos tra l'altro è riuscito a a farmi capire tante cose quanto appunto la caccia alle streghe fosse brutta quanto appunto tutto ciò che c'era dietro la caccia alle streghe tutto ciò che il dolore il dolore quanto la gente abbia avuto paura in quel tempo di venire etichettata come una strega regà è mi ha lasciato veramente delle emozioni questo album che se non lo ascoltate non lo potrete mai sapere è un viaggio è anche questo è un viaggio che in pochi forse quasi nessuno è riuscito a fare perché quest'anno regà i primi posti sono veramente intoccabili penso siano due dei migliori album black metal di sempre e io ho avuto la fortuna di averli ascoltati quest'album durante l'uscita veramente qualcosa di clamoroso clamoroso anche di questo vi lascio il link il link al video qua sopra così almeno potete andare a vedere tutto ciò che c'è da sapere tutte le mie prime impressioni e ve ne parlo un po' meglio signori io ho parlato veramente tantissimo tantissimo questo video verrà a lungo non so quanto verrà a lungo ma tanto ho registrato quattro video più o meno da 20 minuti cioè parliamone signori se pensate che questo lavoro cioè se pensate che che me lo si è meritato tutto questo gran culo che mi sono fatto perché è veramente un gran culo lasciate in questo momento proprio in questo momento un like grande come una casa signori veramente io vi sto salutando grazie per avermi ascoltato grazie per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni allora fatemi sapere prima di tutto se andrete ad ascoltare uno di questi album se conoscevate uno di questi album cosa ne pensate fatemi sapere tutto quello che vi passa nella testa nei commenti qui sotto e grazie per avermi ascoltato se non siete iscritti al canale e vi interessano comunque sia queste tematiche io vi consiglio di iscrivervi anche perché almeno non vi perdete i prossimi video allora ve lo dico sin da subito settimana prossima molto probabilmente anzi sicuramente non uscirà nessun video perché sarò a Milano a vedere Alestorm Gloria Hammer Windows e Rumaoi e poi tornerò anche il sabato che ci sono i Twilight Force che tra l'altro hanno fatto un album io lo dico qui 23 gennaio sto registrando il video i Twilight Force hanno fatto il miglior album non dico il migliore però si candida ad essere il miglior album dell'anno per quanto riguarda il power metal quindi niente raga io vi saluto grazie per essere arrivati fin qui un bacione enorme signori ci si vede a Milano per chi ci sarà ciao a tutti l'abbiamo 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 l'abbiamo